Mmm... Grazie, Tracker! Cos'è questa storia dei cocchi gratis? E dov'è? Se posso chiedere il mio? Lo sento, Sindaco Hamdinger, ma sembra proprio che i cocchi siano finiti! Non è giusto! Tutti hanno avuto un cocco tranne me! Non è affatto giusto! Voglio avere un cocco anch'io! Il Sindaco Hamdinger si sta comportando proprio come un bambino piccolo! Fatemi controllare di persona se i cocchi sono davvero finiti tutti! Bene, tutti i cocchi sono finiti, eh? E questo cos'è? Quello mi sembra un po' diverso! Penso che debba essere cattivo! Muy malo! Non ho mai visto un cocco dorato prima d'ora! Nunca! È speciale perché io sono speciale! Aprilo, cucciolo! Va bene! Mmm... È molto più buono di tutti gli altri cocchi! Io ho avuto il cocco migliore! Raccogliere e trasportare tutti questi cocchi mi ha stancato parecchio! Vado a schiacciare un pisolino! Io ho avuto il cocco migliore! Questo è il migliore succo di cocco del mondo! Tazza! Wow! Che cosa è successo al Sindaco Hamdinger? Ai ai ai! Questo piccolo bambino è il Sindaco Hamdinger? Devo ammettere che così è molto più carino! Muccia Maslindo! Scusa, piccolo! Ma il succo del cocco è finito! Quanto sdrilla! Mi fanno male gli orecchi! Per favore, smettila, por favore! Ai ai ai! Ho bisogno di aiuto! Sì! Raider, aiuto! Il Sindaco Hamdinger ha bevuto il succo del cocco dorato e si è trasformato in un bambino piccolo! Eh? Ai ai ai! Hai ricominciato a piangere! Che cosa facciamo? Dobbiamo farlo ritornare subito adulto! Hai un altro cocco dorato, per caso? Mi sembra che ci fosse soltanto un cocco dorato! Il succo di un altro cocco dorato lo ritrasformerebbe? Può darsi! Ma penso che dovremmo cercarlo nella giungla! Carlos ci può aiutare! Ma certo! Nel frattempo noi ci occuperemo del bambino! Sei una mamma! No! Torna qui! Tutto bene là sotto! Oh no! Siete bloccati! Tenete duro! Da solo io non ce la faccio! Raider, sono Marshall! Ho bisogno subito della Pou Patrol! Eccoci qua, Marshall! Cosa? Cheese! Ma che cosa ci fai qui? Ci stiamo accertando tutti, Marshall! Disattivativo! Raider! Rubble, siete arrivati appena in tempo! Un fulmine ha colpito l'albero e ha caduto su una tana di conigli! Un coniglio è scappato nel bosco! E gli altri sono intrappolati nella tana! Chase, trova il coniglietto! Rubble, porta qui il camion! Marshall, il tronco è ancora in fiamme! Sai cosa fare? Non aspettavo altro! POMPA D'ACQUA! Ben fatto, Marshall! Rubble, cerca di spostare il tronco! Se serve aiuto, Rubble arriva in un minuto! Coraggio, coniglietti! Siete al sicuro! Va tutto bene, piccoletto! Che bel giorno, che bel giorno! Per un luau ad Adventure Bay! Che bel giorno, che bel giorno! Per indossare collane di fiori! Vi serve una zappa, per caso! Prendi il mio posto, voglio assicurarmi che siano tutti fuori dall'acqua! Non siamo mai troppo prudenti con un mostro marino in giro! È un pasto particolarmente piacevole, ma non hai il fascino della mia affidata Flutter! Oh, io, io! Che bel giorno, che bel giorno! Per mangiare gratis ad Adventure Bay! Coraggio, sindaco Humbinger! Venga a ballare anche lei! No, no, la danza non fa per me! L'aula non è soltanto un ballo, è anche uno dei modi più divertenti per tenersi in allenamento! Allenarsi? Ma per favore, sono già in perfetta forma io! Ehi, ma che... ma che succede? Sto andando bene! No, non è vero! È solo che... Ehi! Ehi, che fine ha fatto la mia cena! Sky, mi occorre il tuo aiuto! Ricevuto, Ryder! L'aquila dello spago ha torcigliato la zampa ed è bloccata nel suo nido, devi liberarla! Un'aquila? Va bene! Oh, Ali! Prendiamo subito il volo! Allora, Ryder, sono qui! Non è facile, Sky, ma tu puoi farcela! Lo vedi lo spago ha torcigliato la zampa? Sì, lo vedo! È annodato al nido! Bisogna liberarle la zampa! Pensi di farcela? Non c'è altre soluzioni! Attento, Sky! Occidenti! Sky! Ok, nuovo piano! Chase, usa il tuo drone per distrarre l'aquila! Tienila occupata mentre Sky si cala nel nido! Ottima idea, Ryder! Ci pensa Chase la super spia! Drone! Lancio! È la tua chance, Sky! Ok, ci provo! Sì! Evviva! Ce l'hai fatta, Sky! L'aquila è libera! Tu e i tuoi cuccioli siete incredibili, Ryder! Grazie! In ogni occasione noi siamo a... Disposizione! Aspettate, l'aquila è libera! Il mio drone! Credo sia meglio torni qui! Anche tu, Sky! Ora puoi atterrare! Sky, stai bene? Benissimo, Ryder! Sto tenendo d'occhio la piccolina! È così carina! Carina! Ha ha ha! Il furgone di Raimundo si è fermato esattamente qui! Allora probabilmente è qui vicino! Chase, usa il tuo megafono per chiamare l'ippopotamo! Wow! Megafono! Guardate! Forse è il cucciolo di ippopotamo! Ryder, rispondi! Li vedo! Ma non immagini che spettacolo! Li vedi? Sì, l'ippopotamo è con Danny X il temerario! Stanno facendo skateboard lungo il canale e si dirigono verso il salone di Katie! Grazie! Andiamo subito laggiù! Forza! Rubble, dobbiamo costruire una barriera nel canale vicino al salone di Katie! Usa la tua escavatrice per costruirne uno col fiero! Rubble come un razzo! Questo è davvero un numero estremo! Sarebbe fantastico se solo sapessi come... Fermarmi! Questo dovrebbe fermare un ippopotamo in fuga! No, Iro! Ti prego, lascia perdere la palla! Però ho davvero un gran salto, Iro! Sembra che il cicco sia già arrivato in città! Ehi! Mi servono quegli skate! Che splendido atterraggio! Sei stato bravissimo! Andrà tutto bene, Iro! Dobbiamo solo scendere prima che il tetto crolli! Aiuto! No! 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 No!